Oh porca vacchetta, oh porca vacchetta, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutti i miei errori, porca di quella vacca dove mi trovo, dove cacchio mi trovo, oddio dobbiamo fare dei calcoli Cosa, 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 mi trovo nella Brainstoria Porca vacca, adepti, sono usciti i nuovi disegni, basta cliccare il link, magliette e puff, come per magia, Alien Burger e Rappimento ti aspettano solo nel negozio Ciao a tutti i tassi di caffè, tassi adepti, io lo sono Alienozzo, un po' pazzerozzo, oggi sono Alienozzo il Totorozzo E ragazzi, mamma mia, ci troviamo in una mappa bellissima fatta da un adepto, un grandissimo adepto, che ovviamente è il mio miticissimo amico Armex Che ringrazio per questa stupenda, stupendissima, altro che stupenda mappa, tra l'altro guardate ragazzi, Alienozzo, eh mamma mia, tanta roba Ovviamente, Armex detto comunemente su Minecraft, exiliato, exiliato, un barbados, exiliato Ragazzi, una mappa stupenda, che ovviamente testeremo insieme, una mappa che ovviamente, come detto nell'intro Ragazzi, verremo teletrasportati, da vicino a un vulcano, riusciremo a sopravvivere, riusciremo? Non lo so ragazzi, non lo so, ovviamente questo sono io, guardate che carino che sono ragazzi, eh, cioè, c'ho la pancetta un po' verde E vabbè ragazzi, eh, ragazzi, è Natale, a Natale si mangiano, non è vero, non è Natale, ma ci sono dettagli Cioè ragazzi, guardate che figata, questi, voi siete tutti qua, tutti i miei schiavetti che mi stanno guardando in questo momento Non, sto scherzando ragazzi, vedete la scritta lì, e questo? Questo cos'è? Oddio un test ragazzi, se funziona sto male, eh ragazzi, se funziona, cos'è quella pallina lì? Ah, tipo della lava, così vediamo se funziona ragazzi, prepariamo il test, 3, 2, 1 Oddio ragazzi, devastante, era la chiappetta del palpatina ragazzi, devastante, non funziona più? No, non funziona più una volta sola, però bellissima ragazzi, ragazzi, qua invece c'è cosa per l'urina, questi sono dettagli E quali lì sono i miei UFO parcheggiati, vabbè, ma detto questo ragazzi, a parte questo, io direi di entriamo, entriamo nel mondo Andiamo a scoprire la preistoria Oh, 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 il gioco è iniziato Tra 5 minuti la lava sommergerà tutto, oh mio dio ragazzi, ebbene sì Abbiamo pensato io e Armex di creare un gioco un po' diverso dal solito Un gioco magari, speriamo che ecco, vi possa piacere Ed è un gioco praticamente di una sopravvivenza tipo un minigames Come notate c'è scritto il tempo, ovviamente c'è il lienozzo E il tempo è di 5 minuti Ovviamente qua non è in sessantesimi, sarebbero 5 per 60, ovvero 300 secondi Di cui successivamente, come notato, come notate lì davanti Il vulcano erutterà e un'onda di lava gigante ci travolgerà Ovviamente l'obiettivo è cercare di costruirsi un fortino Per cercare di sopravvivere da questa lava Che travolgerà tutto e tutti ragazzi Ovviamente come si fa? Beh, non possiamo raccogliere i materiali Nessun tipo di materiale si può raccogliere Possiamo solo distruggere Ma l'unica cosa che possiamo raccogliere Sono questi alberi particolari Detti comunemente alberi di pisellozzo ragazzi Esatto, esatto Vedete? Questi alberi distruggendo una fence Ci vanno a droppare un blocco intero di legno Che ovviamente poi dopo possiamo dimezzare Cioè, quadruplicare in 4 blocchi di legno raffinato Quindi ragazzi l'obiettivo è cercare di sopravvivere Io devo cercare quindi di costruirmi questo fortino Però ovviamente non ho cibo nelle vicinanze Quindi non posso farmi le cosciotte Mannaggia E vabbè, questo è appunto il bello della sopravvivenza Quindi non devo correre Devo andare molto piano ragazzi Molto velocemente Devo andare a vedere le altre parti Perché vi voglio far vedere una cosa Ovviamente adesso mi vado a fare una bellissima crafting table E per farmi una scelta Però da quello che vi voglio far vedere È che devo stare molto attento Perché da questo punto di vista Una volta che faccio l'ascia Non posso poi dopo più utilizzare la workbench Mannaggia Vedete? Si va a disintegrare ragazzi Avete notato? Non ho raccolto nulla Quindi devo stare molto attento Come notate Questi frutti Non posso mannaggia mangiarli Sarebbero buonissimi per me Sembrano un po' il culetto del palpatina ragazzi Ma questi sono dettagli Di qua non posso passare Perché ovviamente c'è un perimetro E non è il mondo totale Però dobbiamo trovare altre fesse Eccolo lì Eccolo l'alberello Da questo punto di vista Ditemi e consigliatemi come potrai sopravvivere contro la lava Perché ovviamente tutto qui andrà a fuoco letteralmente Devo stare molto attento ragazzi Devo stare molto attento Devo costruirmi una casa il più possibile sicura Da questo mondo selvaggio e brutale Ovviamente ci troviamo nella pre-story Oh Oh Avete sentito Detti? La fattina dei denti Mi ha detto Alinozzo Mettiti a posto i denti E beh No vabbè dai ragazzi Ma non ho i denti così ridotti male no? Cosa ne pensate ragazzi? Cioè mi sembra di stare abbastanza bene con la salute dentale E qua? Oddio qua c'abbiamo un laghetto ragazzi Devastante Vediamo Non posso Ah non mi posso abbassare eh Arnex che furbetto Però No non posso raccoglierli per mangiare Però ragazzi secondo voi Introfulandomi nel laghetto potrai sopravvivere Questo è da fare come spedimento no? Non raccolgo nulla vedete Non raccolgo assolutamente nulla Mannaggia Eccola lì però una fence Perfetto Era qui Bene ragazzi Allora Dato che comunque sono dei tronchi e del legno Io poi da questi posso farmi un bel po' di materiale Ma porca di quella vacca ragazzi Siamo già a metà del tempo Siamo circa due minuti e mezzo Dato che vi ho detto il countdown a 300 secondi parte E farà eruttare l'onda gigante dal vulcano Quindi devo stare abbastanza attento ragazzi Devo Ditemi Consigliatemi come fare questa cavolo di struttura Perché dovrebbe essere una struttura veramente devastante Io pensavo O salgo Vado a salire su un albero Per cercare di mimetizzarmi Però non lo so Diciamo che è una mappa che può essere ovviamente interpretata In diversi modi per sopravvivere E soprattutto è una mappa Che grazie ai vostri consigli Potrebbe evolversi in differenti paesaggi Differenti tipi di onda ragazzi Cosa ne pensate? Ovviamente Consigliatecelo Perfetto Allora Andiamo di qua Ho visto un'altra fence Non è vero Non l'ho vista assolutamente Ma questi sono dettagli Forse di qua Eccola lì Eccola lì Perfetto Andiamo dai ragazzi Io direi Prendo l'ultima E iniziamo a costruire No non ce la faccio ragazzi Mancano 100 secondi Meno di 2 minuti Ovvero più precisamente 1 minuto E 40 dovrebbe essere ragazzi Mamma mia Mamma mia Allora prendiamo tutto Perfetto Perfettissimo Ok ci siamo Andiamo a vedere Uff 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 Vai Pronti Ragazzi Costruiamo Dai ragazzi Ho 64 blocchi Allora da questo punto di vista Volevo farmi un mini bunker Per cercare di sopravvivere Quindi facciamo una cosa così Ovviamente La lava non potrebbe passare Dalla mia casetta Io pensavo di fare Un Diciamo Il suolo Impermeabile Alla lava Vediamo un po' Se ci riusciamo ragazzi Quindi Volevo fare una cosa così No ecco vedete Ho già sprecato un blocco Devo stare attento Devo cercare di sopravvivere Mamma mia Quindi facciamo così ragazzi Vediamo Dai manca pochissimo Sì vabbè Se poi però continuo Mamma mia Vabbè Lasciamo perdere Poi da questo punto di vista Volevo farvi vedere Se riusciamo A Farvi vedere quindi La lava Come arriverà E vedervi Farvi vedere diciamo L'onda gigante Che travolgerà tutto Ovviamente adesso sono un pirla Perché qua Dovrò andare a sprecare Altro materiale Chiudiamoci così ragazzi Perfetto Vediamo Se Per voi riusciremo a resistere Ma manco per un cavolo ragazzi Manco per il cavolo Però Ho pensato di farmi Una sottobase Un rifugio segreto Nel caso in cui La lava dovesse raggiungermi Ragazzi Facciamo così Vediamo Vediamo se ha senso questa cosa Vediamo Facciamo così 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 Perfetto E io vado a fare così 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 Ok Adesso Stiamo un attimo qui Giusto per farvi vedere Cosa succederà con la lava Vediamo Chiudiamo tutto qua ovviamente Perché ho paura E perfetto Poi dopo quando la lava Arriverà da noi Ragazzi Andrò a chiudere tutto Mannaggia ragazzi Mancano 15 secondi 15 secondi Il countdown Secondo voi da dove arriverà Questa onda malefica Non lo so ragazzi Lo scopriremo solo Vivendo Madonna quanto era brutto ragazzi Ma quanto sono sexy Eh Uh Bacini bacini Ok ragazzi 5 secondi 5 secondi Non è più tempo di scherzare Il mio lato Sopravvivenza Estremo Devo arrivare Ragazzi Devo arrivare Perfetto Vedete il lag Ragazzi L'onda è stata generata L'onda è stata generata Da dove arriverà Ragazzi Momento di inquietudine Sento terremoto Ragazzi Terremoto Oh mio dio Eccolo No È arrivata È arrivata No 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 Ho già sbogliato tutto No Sta lagando di brutto No vabbè ragazzi Non ce la faccio Sono scemo Sono scemo Sono scemo Ho letteralmente sbagliato Sono uscito dalla mappa Ma questi sono dettagli E quindi va bene Dai niente addetti Io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei prossimi episodi Andremo ulteriormente Ovviamente Armex Andrà a migliorare la mappa Nel caso vi potesse piacere Per farvela scaricare Quindi per farvela provare Anche a voi Magari facendo vedere Un tempo Un record Di chi sopravvive Di più All'interno di questa mappa E quindi niente Ci sentiamo nel prossimo episodio Ciao 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 Ciao